Ancora un pericolo per il traffico automobilistico e a segnalare ancora l'Associazione Italiana Cambiari di Piove la Strada, che mette in evidenza questa sorta di riparazione effettuata in via Magenta al piano stradale, dove come appare evidente sono dissestati i lattroni che poi mettono la strada, perché ogni qualvolta passa su questo lattrone una delle automobili o anche un moto, vedete cosa accade? Bene, da tener conto che questo dissesto e questo rappezzo si trova a due passi da quello che è un pilomat mai utilizzato, quindi lì c'è un vuoto che aumenta ancora di più il rischio. E non è l'unico punto in cui l'arteria ha questo tipo di problema, guardate, o meglio, ascoltate. E il dissesto, continuo, i punti sono tanti, più o meno seri. Per questo l'associazione italiana Familiari Vittime della Strada chiede l'intervento comunale di manutenzione.